Carissimi amici di Fede e Cultura, siamo ancora una volta qui collegati per leggere insieme e commentare la sequenza di Vangelo che la Chiesa proclama nelle domeniche nella forma straordinaria del rito romano. Se prendiamo in mano la nostra copia del messale festivo tradizionale su Morum Pontificum, a pagina 427 troviamo come sempre la traduzione in italiano del Vangelo. Domani sarà, secondo il calendario tradizionale, ricorrerà la ventiquattresima e ultima domenica dopo Pentecoste e la sequenza del Vangelo è tratto da Matteo, capitolo 24, dai versetti 15 a 35. Grazie a tutti. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, quando dunque vedrete presente nel luogo santo l'abominio della devastazione di cui parlò il profeta Daniele, chi legge comprenda, allora quelli che sono in Giudea fuggano sui monti, chi si trova sulla terrazza non scenda a prendere le cose di casa sua e chi si trova nel campo non torna indietro a prendere il suo mantello. In quei giorni guai alle donne incinte e a quelle che allattano. Pregate che la vostra fuga non accada d'inverno o in giorno di sabato, poiché vi sarà allora una tribolazione grande quale non vi è mai stata dall'inizio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. E se quei giorni non fossero abbreviati nessuno si salderebbe, ma grazie agli eletti quei giorni saranno abbreviati. Allora, se qualcuno vi dirà, ecco, il Cristo è qui, oppure è là, non credeteci. Perché sorgeranno falsi Cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e miracoli, così da ingannare, se possibile, anche gli eletti. Ecco, io ve l'ho predetto. Infatti, come il fulmine viene da oriente e brilla fino a occidente, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Dovunque sia il cadavere, lì si raduneranno le aquile. Subito dopo la tribolazione di quei giorni il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno del cielo e le potenze dei cieli saranno sconvolte. Allora comparirà in cielo il segno del figlio dell'uomo e si batteranno il petto tutte le tribù della terra e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo con grande potenza e gloria. Egli manderà i suoi angeli con una grande tromba ed essi raduneranno i suoi eletti dai quattro venti da un estremo all'altro dei cieli. Dalla pianta di fico imparate la parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino e alle porte. In verità, io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo si compia. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Si tratta di un brano del Vangelo molto importante ed è utile soffermarsi perché molto spesso viene interpretato in modo erroneo, che se vogliamo è il modo più facile, più superficiale con cui interpretare questo brano del Vangelo, ossia in senso apocalittico, apocalittico nel senso più hollywoodiano del termine. Cioè, sembra che qui Gesù ci stia parlando di un punto preciso sulla linea temporale, sulla linea della storia, del futuro, quindi chissà quando, situata chissà in che momento storico, anche se nel corso della storia della Chiesa c'è sempre stata l'impressione di vivere il momento che Gesù sta descrivendo in questa pagina di Vangelo. Cerchiamo però di capire cosa vuole dirci davvero Gesù in questa pagina. E per farlo ricorriamo, come sempre, all'autorevole esegessi dei padri. Penso a Sant'Agostino di Pona, penso a Sant'Ommaso d'Aquino in particolare, che aveva compilato la catena aurea, cioè il commento ai Vangeli, attingendo dai vari padri della Chiesa. Ecco, è utile partire, anche in questo caso, come abbiamo fatto domenica scorsa, dalle ultime parole di questo brano. E capiamo, se meditiamo attentamente su queste parole, che la nostra direzione deve andare da tutt'altra parte. Il Signore, infatti, dice, rivolgendosi ai Suoi Apostoli, non passerà questa generazione che non siano adempiute tutte queste cose. Ora, è evidente che la generazione dell'epoca di Cristo è già passata, ed è un bel pezzo, no? Sono passati circa duemila anni, e nessuno degli eventi narrati in questa pagina di Vangelo, così come sono qui descritti alla lettera, si è verificato. Il Sole non si è spento, la Luna non è divenuta rossa come il sangue, non sono cadute le stelle, non c'è stato uno sciame meteoritico che ha distrutto la Terra, eccetera. Quindi, delle due luna. O Gesù era un imbroglione, oppure il senso di queste parole era ben altro, un senso di lettura evidente agli apostoli e ai cristiani del primi secoli, e all'uomo moderno forse un po' meno. Dobbiamo leggere questi riferimenti cosmici e apocalittici come simbolo di realtà spirituali. È difficile, certo, pensare alla ciarlataneria di Gesù, se consideriamo che San Matteo, l'Apostolo, scrisse questo Vangelo quando la generazione di Gesù era già prossima alla fine, se non già passata quasi. Quindi, difficile, ecco, Sabatteo non poteva ingannare i suoi contemporanei. Come interpretare, dunque? Si tratta di una pagina che va letta in senso allegorico. I padri distinguono due grandi parti di questa pagina del Vangelo. La seconda parte ci parla della venuta, della cosiddetta parousia, cioè la venuta di Cristo alla fine dei tempi. Ma io ritengo che sia più interessante, perché è apparentemente più enigmatica, la prima parte di questa pagina del Vangelo. Ed è su questa che vorrei soffermarmi. Vediamo che all'inizio San Matteo riporta le parole del Signore Gesù. Dice, quando vedrete l'abominio della desolazione nel luogo santo. E poi notate che l'autore si preoccupa di inserire proprio all'inizio un inciso. Inciso che non appartiene alle parole di Gesù, sono parole dell'autore, di San Matteo. Chi legge comprenda. Come a dire, come per avvisare l'elettore, attenzione a non fermarti a un'interpretazione superficiale, che si ferma all'apparenza, cerca di andare oltre. L'abominio della desolazione di cui ci parla Gesù, lo leggiamo chiaramente, fa riferimento a un passaggio del libro del profeta Daniele. Quindi per capire di cosa si sta parlando, dobbiamo andare a vedere dove il profeta Daniele parla di abominio della desolazione. E in effetti, al capitolo 9 del libro del profeta Daniele, leggiamo Ripeto, la desolazione resterà sino alla fine dei secoli. Ora, cos'è questa desolazione che resterà fino alla fine dei secoli? Evidentemente è la croce di Cristo, è la passione questo abominio della desolazione. In effetti il profeta inizia dicendo il Cristo sarà ucciso. Solo questo abominio, perché così appare la croce di nostro Signore, terribile la passione e morte del Signore Gesù, solo questo abominio, questa desolazione, che per il Signore è stata non solo fisica, ma anche e soprattutto spirituale, consente agli uomini di ottenere da Dio la salvezza. è la salvezza eterna. L'abominio della desolazione è il sacrificio della croce che ogni giorno la Chiesa rinnova in maniera incruenta nel sacramento dell'Eucaristia. Una volta compreso questo, una volta compreso che questo abominio della desolazione è la croce di Cristo, capiamo perché poi Gesù dirà non passerà una generazione, ma capiamo anche il senso delle tre strane indicazioni che il Signore sembra fornire subito dopo, perché leggiamo che Gesù dice chi si trova in Giudea fugga sui monti, chi si trova in terrazza non scenda in casa per prendere oggetti, le proprie cose, e chi si trova nei campi non rientra in casa per prendere la veste. Sono tre indicazioni piuttosto strane. E tuttavia anche queste possono essere ben comprese se capiamo che esse sono parabole, come nel linguaggio tipico di Gesù, cioè riferimenti tramite la vita quotidiana a realtà spirituali, a realtà soprannaturali. Cominciamo dalla prima. Chi si trova in Giudea fugga sui monti. Il Signore vuole metterci in guardia da tre atteggiamenti che rappresentano tre impedimenti alla vita sacramentale, alla vita religiosa. Il primo impedimento, che è quello più comune, se vogliamo, quello più facile da avere, riguarda le nostre attività mondane, le attività di tutti i giorni, che rischiano di farci attaccare il cuore alle cose del mondo, oppure di distrarci eccessivamente dalle uniche cose che contano, ossia le cose divine. Perciò Gesù dice chi si trova in Giudea, cioè la Giudea, dove stanno le città, dove c'è il negozium, dicevano gli antichi romani, cioè le occupazioni di tutti i giorni. E Gesù dice chi si trova in Giudea, cioè chi si trova immerso in queste occupazioni quotidiane, fugga sui monti. E il monte, nel linguaggio biblico, è il luogo privilegiato dell'incontro con Dio. Pensiamo al Sinai, al Tabor, o anche al Calvario. Poi il secondo impedimento, chi si trova in terrazza non scende in casa per prendere le proprie cose. Cosa vuole dirci qui? Il secondo tipo di impedimento è tutto interiore. I propri desideri possono essere impedimento alla vita di grazia, alla vita sacramentale. La volontà dell'uomo è in un certo senso il tetto, la terrazza della casa dell'anima. Chi si trova già a questo livello avanzato di spiritualità, non si laffi a trarre dalla tentazione di scendere verso il basso della casa per cercare cose effimere, non di ascolto alle passioni basse. E poi ancora un terzo impedimento. Gesù, come sappiamo, nel Vangelo sembra a volte essere molto esigente. Si dice non lasciatevi prendere neanche da quelle cose che sono necessarie per vivere. Chi sta nel campo, e anche il campo è, nel linguaggio del Vangelo, il simbolo del regno di Dio, quindi chi lavora per il regno di Dio, chi sta in questo campo, si è disposto a rinunciare anche a quelle cose necessarie se Dio lo chiede. Per esempio, la tunica. La tunica è necessaria per coprirsi. Questi sono, dunque, tre impedimenti, tre generi di impedimenti alla vita di grazia su cui noi abbiamo potere. Ci sono, però, altri impedimenti alla vita di grazia sui quali noi non abbiamo potere e dipendono soltanto dall'onnipotenza divina. E quindi quali sono questi impedimenti? Lo vediamo nei versetti successivi, dove Gesù ci dice in quei giorni, dice Gesù, guai alle donne incinte e alle donne che allattano. E poi dice, private che la vostra fuga non accada di inverno o in giorno di sabato. Che cosa vogliono dire queste due indicazioni? Gesù si riferisce a quegli impedimenti che non dipendono da noi, ma solo da Dio. E questi impedimenti che sono inevitabili possono essere di due tipi, secondo due modi. Da una parte c'è la condizione delle donne incinte o delle donne allattanti, e qual è questa condizione? E quando noi proviamo un affetto smodato verso i più cari, le persone più care, un affetto che ci porta talvolta a perdere, a preferire l'amore, l'affetto di questi cari, piuttosto che l'amore di Dio. Proprio nel Vangelo di Matteo Gesù mette in altri punti in guardia, chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me, dice Gesù, chi ama il figlio addirittura, o la figlia più di me non è degno di me. Quindi, questo è un primo possibile impedimento dal quale Gesù ci mette in guardia. Il secondo impedimento dove Gesù dice pregate che la fuga non avvenga di inverno o di sabato fa riferimento a un altro tipo di ostacolo, e cioè quando o la nostra natura corrotta, indebolita dal peccato originale ci fa veramente d'ostacolo nel proseguimento della vita di grazia. Allora Gesù fa riferimento a questa natura corrotta quando dice pregate che non dobbiate fuggire d'inverno, perché l'inverno rappresenta in natura la stagione più ostile alla vita. Oppure altri impedimenti possono essere causati dalle condizioni sociali, dai timori, dalle preoccupazioni causate dalle persecuzioni, dai poteri politici, dalle ideologie. Questa debolezza della legge è rappresentata dall'espressione tipicamente biblica e tipicamente ebraica, pregate di non dover fuggire di sabato, il sabato infatti è il giorno delle proibizioni, il giorno dei divieti. E Gesù dice in entrambi i casi pregate, cioè quando questi impedimenti sono per loro natura insuperabili con le forze, con le mere forze umane, affidatevi al Signore, affidatevi alla grazia di Dio, Dio è l'unico che può aiutare a superare, abbiutarvi a superare questo genere di ostacoli. Ecco, questa è una parte, il commento di una parte di questa pagina di Vangelo è veramente complessa, non abbiamo così tanto tempo da poter commentare tutta la sequenza perché è veramente lunga, qui vogliamo fare solo qualche riflessione, e soprattutto voglio incoraggiarvi ad acquistare se non l'avete già fatto il messale festivo tradizionale su Morum Pontificum. All'interno trovate il propium e le preghiere delle domeniche e delle festività, delle solennità del calendario liturgico romano nella forma straordinaria. Grazie come sempre per la vostra attenzione e vi do appuntamento a sabato prossimo per un nuovo commento al Vangelo proclamato dalla Chiesa in occasione della domenica, ma vi do appuntamento anche a tutti gli incontri che svolgiamo qui sul canale YouTube di Fede e Cultura. Grazie come sempre per la vostra attenzione, Santa Domenica a tutti voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.